Buon pomeriggio a tutti, iniziamo i lavori di questo nostro incontro e prima di cominciare di entrare nel vivo del pomeriggio, do la parola al professore Buccio come duopo. Prego Gennaro. Grazie Luigi, ringraziamento va a questi bravi studenti, sicuramente al professor Cananzi e all'impegno che ormai da quattro anni, soprattutto Luigi, sostengo questa iniziativa in maniera forte anche attraverso l'istituto Maritella, che ormai la scuola sta diventando qualcosa di sempre più autonomo, ma a noi non può se non far piacere come istituto continuare a riflettere su temi così importanti, tant'è che molti convegni ma anche momenti culturali li facciamo insieme, come la Summer School, il corso Altistudio eccetera, però insomma Luigi poi dirà meglio di me. Avendo un ringraziamento di cuore al relatore di oggi, un tema specifico è il lavoro nell'era tecnologica tra nuove forme vecchi precariati e oggi insomma la tecnologia diventa sempre il centro anche del nostro lavoro, se pensiamo a quello che oggi stiamo facendo, già adesso è un qualcosa che ci appartiene. Un tempo Tommaso diceva connaturale, sta diventando quasi qualcosa di connaturale all'essere umano, cioè se non ritroviamo la forza attraverso la tecnologia stessa come momento di positività ma anche di aiuto, oggi saremmo in una grossa difficoltà anche nel lavoro stesso. Ecco, quello che mi piaceva inserire all'interno di questo discorso era una sorta di tecnologia che possa guardare sempre di più all'etica. L'etica deve avere un forte influsso all'interno della tecnologia, semplicemente perché la tecnologia è parte del lavoro e il lavoro è nella persona, quindi non possiamo se non sviluppare tutte le nostre riflessioni intorno a questo soggetto che è l'essere umano. Delle volte insomma cerchiamo anche di capire come sviluppare il lavoro e quanta importanza dobbiamo dare poi fondamentalmente al lavoro rispetto a quella che è poi la dignità della persona stessa. E' chiaro che, come appunto accennava anche Tommaso ma anche Aristotele, la quantità poi si svanisce all'interno della sostanza. E qui ecco, forse il lavoro si inserisce in quel contesto che appunto è la persona come sostanza e che senza lavoro addirittura noi non riusciamo a sviluppare fino in fondo ciò che deve essere la persona. Ma i temi intorno a questi sono veramente tanti, però ecco quello che oggi mi faceva piacere sviluppare, sostenere in queste poche parole era proprio questa relazione profonda tra tecnologia ed etica e soprattutto ecco questa attenzione al lavoro tenendo presente poi il soggetto persona che non dimentichiamo e poi la base su cui noi costruiamo tutto il nostro esistere ma anche il nostro lavorare stesso. Il precariato. Il precariato oggi è anche un problema serio, importante, su cui dobbiamo riflettere ma soprattutto cercare anche di eliminare dalla nostra esistenza, forse farlo entrare di più nella nostra vita e cercando di renderlo un vero e proprio lavoro per quello che c'è possibile. Perché i precari poi chi sono? Sono persone che lavorano e non lavorano, sono persone che in un certo senso vivono questa difficoltà anche del lavoro, ma nello stesso tempo possono essere persone che sviluppano in maniera ancora più forte quei temi, quelle situazioni che appartengono ancora di più alla persona. Ecco allora questo certo non elimina il problema del precariato ma quasi vuole renderlo in qualcosa non tanto di solo negativo ma dare un'accezione di positività nella riflessione del nostro esistere. Cioè ci sono tante cose all'interno della persona che noi possiamo costruire, sviluppare e certamente ecco all'interno di questo silenzio, all'interno di questa stasi forse ecco tutto ciò si può fare e lo si può vivere anche in una dimensione diversa. Allora grazie veramente di cuore, io ascolterò per quanto posso la lezione che poi già che è registrata potrò andare a rivedere. Grazie. Grazie a Gennaro, il professore Curcio è il nostro direttore responsabile della scuola mi segnalava Giulio che ci siamo persi il relatore forse il professore si è ricollegato con un altro nome vi è collegato perché appena abbiamo iniziato è morto il computer e allora ho dovuto affrontare il cerchio Dan Khan sei tu, non so che erano uno squadro, uno squadro, uno squadro studente estero allora io introduco brevemente il professore Cananzi cosa che francamente mi riesce molto facile, data la nostra amicizia fraterna che ci lega tra tanti anni e innanzitutto lo ringrazio per essere qui, lo ringrazio per essere qui e il professore Cananzi ha un curriculum che parla da solo, da poco è direttore del suo dipartimento, insegna Reggio Calabria, Università Mediterranea ed è uno dei maggiori studiosi di ermeneutica giuridica nel nostro paese, dirige una rivista molto importante, Sud Europa ed è, coordina anche per questo motivo oggi si impegna con noi sul lavoro, coordina una serie di importanti master sul management politico nel quale c'è molta attenzione verso questo tema e ho scritto tantissimi libri, articoli, saggi che mi pregio di avere tutti, sull'ermeneutica, sul diritto e letteratura, sulla filosofia del diritto, sull'estetica del diritto, temi importantissimi e fondamentali che hanno segnato e segnano sostanzialmente le ultime stagioni della nostra disciplina. Io ringrazio di nuovo e gli cedo subito la parola perché sono molto curioso di ascoltarlo su questo tema e poter poi insieme, come spesso abbiamo fatto e come spesso facciamo discutere le tesi di cibo. Benvenuto alla Scuola Lapira. Prego Daniele. Ti ringrazio Luigi, ringrazio Gennaro Curcio, ringrazio gli amici dell'Istituto Jacques Maritaine. Devo dire la verità, sono molto onorato oggi di essere qui con voi, di poter parlare e intervenire dalla Scuola Nazionale di Formazione Sociopolitica Giorgio Lapira. Dalla presentazione di Luigi, chiaramente emerso dalla nostra trentennale amicizia, è tradita appunto dall'eccesso nel presentarmi. In realtà è come al solito molto generoso con gli amici e io sono onorato di esserlo appunto da appena un trentennio, perciò insomma abbiamo molta strada ancora davanti e molte occasioni come questa per ragionare assieme. Il tema secondo me è molto accattivante e interessante e anzi se siete d'accordo io più che fare una lezione direi mi limiterei a spiegare il titolo e poi a discutere assieme. Perché effettivamente il titolo sembra semplice, però assegno a ogni sua parte una interpretazione specifica in un piccolo ragionamento che vi vorrei proporre. Partendo dal fatto che forse potrebbe apparire a qualcuno curioso, strano, che a parlare del lavoro ne sia un filosofo del diritto come me, molto modesto come me. Perché? Perché il tema del lavoro è un tema molto tecnico, lo si può affrontare sociologicamente, lo si può affrontare giuridicamente, perciò qui certamente sono i gius lavoristi a occupare il proscenio. Un tema che difficilmente o raramente comunque ha trovato l'interesse dei filosofi del diritto. Forse colui o colei che volesse formulare questo piccolo ragionamento non si sbaglierebbe. Non si sbaglierebbe se non fosse che il lavoro non è soltanto un tema disciplinare. Se non fosse che se pensiamo un lavoro come un argomento autonomo, stiamo già e da subito, da principio, fraintendendo totalmente ciò di cui andiamo a parlare. Mi besterà soltanto ricordare del resto, proprio a proposito di sociopolitica e del luogo che ci accoglie, seppur virtualmente oggi, che la nostra Costituzione pone il lavoro quale fondamento della Repubblica e nomina il lavoro addirittura nel primo articolo, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E questo perché, se ci fermiamo a riflettere, come mai la Costituzione italiana inizia con questo esempio che potrebbe sembrare, ripeto, strano, curioso o magari essere derubricato a frutto di una contingenza storica. In fondo la Costituzione nasce, come tutti noi sappiamo, dopo una stagione particolarmente segnata dal totalitarismo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, in Europa in particolare. E a uscirne e a essere anima fondamentale della Costituente, chi è? È un'anima catto comunista, se vogliamo. E perciò forse sarà stata questa la contingenza storica che ha portato a pensare il lavoro all'inizio della nostra Costituzione. del resto sarebbe un fatto strano e curioso se solo ci fermassimo a riflettere che nel 57 il nostro paese tutto aveva tranne che il lavoro. Aveva macerie, aveva disperazione, aveva povertà. Parlare di lavoro potrebbe sembrare davvero un fatto strano in quella realtà storica. O curiosa, quantomeno, se si può ipotizzare che il Costituente stesse formulando una petizione di principio. E perché no? Se dobbiamo stare qui a costruire la nuova realtà dell'Italia che sarà, perché non costruirla idealmente fondata sul lavoro? Infatti, in fondo suona bene la cosa. In realtà, però, se noi leggiamo e soprattutto se interpretiamo il testo costituzionale, ci accorgiamo che non si può pensare la scelta ben precisa, mirata, molto pensata, di filosofia politica e giuridica del Costituente nel nominare all'inizio il lavoro come una contingenza storica e ideologica, né come un fatto curioso e strano. Il lavoro compare nel testo costituzionale come attività, certamente, per il sostentamento. Il lavoro è anche nel disegno costituzionale una dimensione, ma il lavoro è anche un fattore privilegiato come attività, quella che consente evidentemente a ciascun individuo di vivere e di sopravvivere. Come dimensione è strettamente collegata a quel pieno sviluppo della persona umana, sono parole evidentemente della Costituzione, e come fattore privilegiato è quello che garantisce la democrazia, la democraticità, tanto politica quanto sociale. Vi invito a farvi un regalo, peraltro gratuito, smanettando con Google, basta che cercate il video del famoso discorso del 55 di Calamandrei, il discorso sulla Costituzione, e davvero vi fate un piccolo regalo. Perché in, penso, 15 o 19 minuti, Calamandrei spiega benissimo, con il piglio che gli era proprio, in che termini la parola lavoro figura e informa la Repubblica. I legami tra il concetto del lavoro, l'attività lavorativa, ma soprattutto la dimensione del lavoro nel progetto costituente, dell'idea costituente del nuovo Stato democratico, è l'assetto democratico. L'idea in base alla quale, senza un forte spazio da lasciare al lavoro, in pericolo è lo stesso assetto democratico. Perché democrazia che cos'è? Se non una democrazia politica è della società. Ma come può una società essere democratica se gli individui che la compongono non sono pienamente sviluppati come persone? E come si fa a pensare una persona pienamente sviluppata che non abbia proprio in quello che il lavoro gli dona, non solo dal punto di vista delle finanze e perciò della possibilità di sopravvivere, ma anche della modalità di partecipare al farsi della società? Beh, allora il lavoro per noi, per noi anche questo pomeriggio, è un argomento non semplicemente specialistico, da gius lavoristi, ma è un tema nel quale il filosofo del diritto può tentare quantomeno di dire qualche cosa. E di dire qualche cosa soprattutto se pensiamo il tema del lavoro a partire dal mondo contemporaneo, che certamente è segnato da quest'era tecnologica, dalle nuove tecnologie che toccano ogni ambito della realtà umana e anche perciò l'ambito sociale, l'ambito politico, l'ambito lavorativo. Uno studio particolarmente interessante è quello del sociologo Casilli, Schiavi del click, che è uno studio serissimo, rigoroso, ma scritto in maniera anche molto accattivante. E qui Casilli, in queste pagine, prende sul serio la tesi per la quale in fondo il mondo del lavoro progressivamente è orientato a far sì che le macchine sostituiscano l'essere umano. Un altro studio parimenti interessante e gradevolissimo alla lettura è quello di Aloisi e De Stefano. Vi faccio vedere le copertine. Il tuo capo è un algoritmo. E qui i due autori trattano del cosiddetto processo di piattaformizzazione che segna in maniera decisiva il mondo del lavoro oggi. Da un lato inventando veri e propri nuovi lavori. Dall'altro lato è contemporaneamente incidendo sui lavori precedenti. Basta fare due nomi a caso, Uber e Amazon, e vedere quanto sono attività del tutto nuove, ma che contemporaneamente incidono su attività più tradizionali. E lo scarto tra il nuovo e il vecchio qui è uno scarto decisivo. Queste due descrizioni del mondo del lavoro sono come tante altre che in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimissimi anni, hanno iniziato a affollare le biblioteche e le riviste con contributi interessanti. Queste due descrizioni del mondo del lavoro sono particolarmente preziose, perché ci invitano a riflettere se in un mondo che sta cambiando radicalmente le regole e il modo di pensare la misura debba adeguarsi a questo cambiamento. Possiamo mantenere vecchi occhiali che ci fanno vedere un mondo che ormai è cambiato. O dobbiamo modificare la nostra ottica e perciò possibilmente adeguarla a questo cambiamento. Il lavoro nell'era tecnologica, tra nuove forme e vecchi precariati, vuole cercare di mettere qualche argomento in discussione con voi oggi pomeriggio. Anche perché è un mondo questo nostro che in gran parte è portato del combinato disposto del processo di globalizzazione da un lato, che per buona parte ha annullato le distinzioni e la distinzione spazio-temporale, donandoci una contemporaneità assoluta. Ora, su questo non mi trattengo perché davanti all'autoritas di Luigi Di Santo che sul diritto e tempo e sulla temporalità è maestro di tutti noi, non voglio procurarmi delle virtuali tirate di orecchie. Ma certamente il processo di globalizzazione ha annullato questa distinzione spazio-temporale, rendendo ciascuno di noi potenzialmente contemporanea a tutti gli altri. Assieme al portato delle nuove tecnologie, appunto, che promettono che cosa? Un'esistenza datificata e informatizzata. Resa più comoda, grazie anche a delle enormi potenzialità che queste macchine intelligenti ci promettono, promettendoci scenari nei quali, al pari di un grande gioco, il lavoratore si trova proiettato nella realtà di quella che oggi si chiama gig economy. In quell'esperimento in corso, come proprio Aloisi e De Stefano notano, nel quale, la citazione testuale, tutto il mercato del lavoro corre il rischio di subire un processo di piattaformizzazione. Perciò quello che sembrerebbe legato ad un fenomeno e ad una realtà, si presenta a noi come paradigmatico di tutto il lavoro del futuro, con tutto quello che questo consegue. Ed è proprio la mutata realtà, questo cantiere a cielo aperto che il mondo odierno è diventato, o continua ad essere, a secondo dei punti di vista, che pone il tema della precarizzazione rispetto alla quale il punto giuridicamente da meditare. Non è una crociata pro o contro il precariato, la gig economy, i processi di trasformazione in atto, ma la comprensione, la comprensione critica, vorrei dire, di questi fenomeni. Perché, come nota una studiosa raffinatissima del Mamarty, in un volume che credo non sia ancora stato tradotto in italiano, dalla grande accelerazione alla grande metamorfosi, la metamorfosi che attende il mondo porta con sé il rischio di una disumanizzazione, a proposito di quello che diceva all'inizio Gennaro Curcio. Una disumanizzazione, ossia di un nuovo totalitarismo, che potrà trasformare gli uomini in docili esecutori di ordini. Due elementi trovo di particolare interesse. Il primo è questo paradigma del gioco che emerge sempre di più, e non solo con riferimento al solo gioco, ma alla società nel suo complesso. Se voi pensate a un dato che mi ha, qualche tempo fa, quando è emerso, non poco sorpreso, una delle attività più rigorose, più serie che possa caratterizzare lo Stato, cioè la lotta all'evasione fiscale, diventa la lotteria dello scontrino, una sorta di grande gioco nel quale ciascuno partecipa avendo pure un premio. Paradigmatico di cosa? Di una società che vede la modalità del gioco e subisce, per certi aspetti, la fascinazione del grande gioco sociale, non più quella società noiosa, paludata, dove come tante formichine, come diceva Enaudi, ciascuno lavora instancabilmente per il bene sociale. Ma una grande pacchia, un gran divertimento, nel quale in fondo anche la lotta all'evasione fiscale si può girare con splendido divertimento in una bella lotteria, la lotteria dello scontrino. E allora vedete questo paradigma del gioco come modalità anche di svolgimento dell'attività lavorativa, potrebbe apparire sostitutivo di quella vecchia modalità di vedere nella dialettica servo padrone l'idea fucoltiana del corpo docile del servo. Non a caso Foucault parla dei militari e dei detenuti quando parla dei corpi docile. Beh, la sostituzione di quella vecchia dialettica con una totalmente nuova ottica che finalmente ci dà, rende effettiva quella promessa geffersoniana del diritto alla felicità, un diritto alla felicità sociale. Di qui il secondo elemento. Sembrano ormai lontani i tempi della rivoluzione industriale, i tempi nei quali l'essere umano ha iniziato a usare in maniera sistematica e coordinata grandi macchine per la produzione in stile fordista con le catene di montaggio. E la catena di montaggio è stata per tanto tempo quasi emblematica di un modo di pensare il lavoro e il lavoratore. Nulla, almeno apparentemente di più lontano da questa attuale nuova situazione della gig economy, dei lavoretti simpatici e del gioco, del lavoro come gioco, che vede l'algoritmo non come la versione più avanzata e informatizzata di macchina, peraltro intelligente, ma una modalità totalmente differente rispetto alla macchinalità della ruota dentata, che era tipica della rivoluzione industriale. Anche questa è emblematica della rivoluzione industriale come rivoluzione di macchine. Parliamo oggi di nuovi e vecchi precariati. Ebbene, le nuove forme sarebbero quelle che ci promettono questa realtà diversa, questa realtà, come si dice oggi, aumentata. Una società diversa, aumentata forza essa stessa, quella che appartiene a ciascuno di noi. Ma ciascuno di noi è già un uomo diverso, perché ciascuno di noi è già un uomo aumentato. Anche l'uso dei termini è sintomatico, tutti in positivi. Siamo aumentati, tutto è aumentato, tutto è più complesso, ma non nel senso di complicato, di potenzialmente migliore. E' da attenzione da marketing questo modo di presentare le cose. Un uomo aumentato, un essere umano aumentato, il quale vive meglio, non la linearità monotona del tempo, ma proprio la complessità multipla di una realtà che è anche virtuale e di una virtualità che in fondo è molto reale. Dall'altro lato, i vecchi precariati sono quelli che residuano rispetto ad un mondo che conserva ancora sacche di lavoro tradizionale, ma distinte e destinate in fondo a essere superate nel passaggio di epoca che stiamo vivendo. Il precariato in fondo non ci dice qualche cosa di ormai superato. Precario chi era? Era colui che in un mondo organizzato sull'idea che l'individuo dovesse lavorare per produrre e producendo era funzionale alla società, precario era colui che questo contributo faceva a intermittenza come le luci di Natale, mentre stabilizzato e perciò regolare era l'individuo e il cittadino propriamente detto. Vedete, davanti a questo scenario il paradigma del gioco mi appare affascinante da un lato, ma tutto da comprendere bene dall'altro, proprio per non farsi ingannare dalle tante luci a intermittenza, che a volte più che creare chiarezza abbagliano. Così come problematico mi appare quello che viene spesso indicato come un salto di era, un salto genealogico proprio, da un'era all'altra, dall'era industriale all'era del virtuale spinto dalla macchina all'algoritmo, dalla ruota dentata all'algoritmo. Io non so se ci sia veramente questo salto epocale, non perché non riconosca che c'è differenza tra la fabbrica del 700 e l'attività di Amazon di oggi, ma perché invece di concentrare la nostra attenzione sulle strutture esterne dovremmo forse andare all'interno del fenomeno e cercarne di capire la logica. Lo ha bene dimostrato proprio Antonio Casilli nel volume che vi citavo prima, Schiavi del click, non a caso il titolo. Se da un lato si prospettano scenari nei quali sembrerebbe che le macchine ruberanno il lavoro alle persone, come alcuni hanno scritto e hanno detto, in realtà spesso non si dice, o comunque non lo si dice con uguale forza, che il vero rischio non è tanto questo. Il vero rischio è quello che credo ciascuno di noi, sicuramente noi professori lo abbiamo vissuto in questi anni di lockdown e di pandemia, il vero rischio non è quello che le macchine sostituiscano gli esseri umani come lavoratori, quanto il contrario, che i lavoratori diventino delle macchine, delle bestie da soma, senza rispetto per quello che è la sfera umana del lavoro, lavoratore, è totalmente assorbiti da quella che è la funzionalità della meccanica della macchina. E questo processo di macchinalizzazione dell'umano, col rischio di disumanizzazione del lavoro, un rischio grandissimo, mi induce a essere meno incline a vedere nell'attuale momento questo salto evolutivo o comunque salto, diciamo, geologico. Mi appare invece più un gioco di specchi, che come è noto, porta in sé la possibilità dell'inganno. Voglio riportare alla mente di tutti noi una splendida pellicola, questo tradisce il mio non essere proprio estremamente social, estremamente adeguato ai nostri tempi, perché è una pellicola del 36, un film strepitoso, bellissimo, se non l'avete visto vedetelo, è di Chaplin, Tempi moderni. Un film che ha lasciato nell'immaginario collettivo proprio il protagonista, Charlotte, alle prese con un lavoro in fabbrica, esattamente con un lavoro nella filiera della fabbrica, un lavoro ripetitivo e col tentativo di ridurre, che lì Chaplin mette molto bene in chiaro, di ridurre il lavoratore a macchina. Tant'è vero che, se non avete visto il film, sicuramente, almeno per coloro che hanno più di 15 anni di età, ricorderete la scena nella quale Charlotte è ingoiato dalla fabbrica e viene catturato nelle ruote dentate che lo catturano, lo mangiano, lo fanno scivolare di dentro della fabbrica, come se la fabbrica ingoiasse l'essere umano per restituirlo poi ingranaggio al pari di tutti gli altri ingranaggi. Corpo docile, dunque, finalmente docile, perché, cancellato di quella componente umana che è di disturbo, il film inizia con una scena meravigliosa, si vede un gregge di pecore che entra nell'ovile e subito dopo si vede un gregge di uomini che escono dalla metropolitana per entrare in fabbrica. L'analogia è potente e da subito ci spiega che evidentemente stiamo lavorando a qualche cosa che rende l'uomo una pecora, corpo docile appunto, che è funzionale alla produzione di qualche cosa. E nel film la fabbrica, che cos'è se non una metafora della società? Come nella fabbrica il lavoratore, tendenzialmente macchinalizzato, è reso ingranaggio di questa grande macchina che deve produrre e per produrre deve funzionare? Così la società che cosa vuole? Vuole un cittadino corpo docile, che partecipi al farsi della società, ma partecipi al pari di quel lavoratore, dicevi, come semplice ingranaggio, che non crea i problemi, che non sia disfunzionale, ma sia perfettamente funzionale al funzionamento della società. Nella pellicola di Chaplin il protagonista, Charlo, è costretto alla catena di montaggio, dicevo prima, figura emblematica della società industriale. E alla catena di montaggio lo si vede che deve avvitare dei bulloni, Ora, nell'operazione che gli viene chiesta in fondo semplice, coordinare le mani e avvitare due bulloni, che cosa avviene? Avviene che in quanto essere umano avverte prurito. E questo prurito, che è una componente umana del tutto comprensibile, è disfunzionale però, è umano in quanto il lavoratore è un essere umano, ma è un problema disfunzionale in quanto lavoratore ingranaggio. Tant'è vero che, con l'ironia e con l'intelligenza propria di Chaplin, si vede che si scatena attorno alla catena di montaggio un conflitto tra lavoratori, si fanno i dispetti, perché si accavallano quando Chaplin ritarda ad avvitare i bulloni, fa saltare la funzione della catena di montaggio. i suoi colleghi lo rimproverano, cercano di picchiarlo, tanto che si rincorrono attorno alla catena di montaggio, con una scena molto emblematica, e se volete anche molto triste, per la quale, ogni volta che la catena di montaggio inizia a funzionare, i lavoratori che si stanno inseguendo per picchiare Chaplin, si fermano e si mettono subito a lavorare. Appena qualcuno spegne il funzionamento della catena di montaggio, tornano umani, smettono di essere ingranaggi, tornano umani, e perciò afflitti di quella voglia di vendetta, è picchiare, picchiare colui che ci ha reso un disservizio. Ecco, devo dire la verità, al netto dell'evoluzione dalla ruota dentata all'algoritmo, che persino io, che sono un po', diciamo, agé, riconosco perfettamente, e pensando alle questioni giuridiche del mondo d'oggi, mi sembra che il rischio paventato nel 36 da Chaplin rimanga inalterato. Che il giurista debba oggi non possa non riflettere su modalità di pensare i diritti e la loro cultura, in base a un'alternativa, questa sì radicalissima, e resa ancora più radicale oggi, proprio grazie alle nuove tecnologie, l'alternativa tra umano e disumano. Che non sia più visibile il banco di lavoro di montaggio, non significa che la sua filosofia di base non sia anche strisciante al di sotto delle più entusiasmanti prospettazioni di liberazione e di emancipazione che questa società del gioco ci promette. È esattamente su questo che secondo me noi dobbiamo riflettere. Del resto, il lavoro come gioco si presenta come modello specifico. Ad esempio, per dire come le luci possono abbagliare. Nei nuovi lavori precari, pensiamo ai rider, tanto per dirne una, non si lavora più. In realtà, mentre una volta si lavorava con qualcuno, pensiamo al Marco Valvo di Italo Calvino, un altro lavoratore alla Ceplin, lavorava in una ditta, oggi non si lavora più con qualcuno, si gioca con qualcuno. non si è assunti da una ditta, da una fabbrica, ma ci si imbarca. Imbarca dove? Ci si imbarca in una splendida avventura, appunto, in un gioco meraviglioso. Non ci sono più i turni di lavoro, si dice e si promette, ma si dà la propria disponibilità. Il rider, in fondo, non è assunto da nessuno, ma ha la possibilità, se ad esempio gli piace andare in bicicletta, di continuare ad andare in bicicletta e mentre va in bicicletta a fare delle piccole consegne. Nessuno lo ha assunto, non ha turni di lavoro, dalla sua disponibilità, dall'ora X all'ora Y non potrò fare queste cose. Evidentemente non si ha neanche uno stipendio, si riceve un rimborso spese, che è tutt'altra faccenda. Non si indossa un uniforme, quella bella uniforme grigia o blu dei metalmeccanici di una volta, ma si sta pubblicizzando un brand che non è più il nome della ditta o della fabbrica. Non ci sono colleghi di lavoro, lavoratori uguali a me e uguali a me. C'è una community di questo grande gioco sociale. Non si timbra più il cartellino, molto più alla page ci si logga. Insomma, non è questo che viene promesso nella società del gioco un lavoro. È un passatempo col quale si guadagna persino. È un grande gioco che ha le sue regole e i suoi ritmi, un gioco dove la distinzione tra tempo lavorativo e tempo privato viene assolutamente cancellata, dove il pubblico e il privato sono concezioni senza senso. Beninteso, questa attività lavorativa, paradigmatica forse, del mondo del lavoro generale di domani, non è altro che già il frutto di una società nella quale si trova ad essere. Ma perché? C'è differenza tra tempo lavorativo e tempo privato per ciascuno di noi? In questi tre anni quasi di lockdown, di pandemia, quanti di noi, stando in lockdown, distinguevano tempo lavorativo e tempo privato? In una società nella quale, quando vado a cena, sento l'impulso nel ristorante, perciò fatto assolutamente privato, sento l'impulso profondo e abissale di fotografare ciò che mangio per avvertire il mondo intero che in quel momento io sto mangiando quel piatto così bello. E d'altronde, d'altro canto, un mondo nel quale, mentre lavoro, lato tradizionalmente pubblico della mia esistenza, io in realtà mi occupo delle vicende di casa perché mentre lavoro faccio la lavatrice, mentre lavoro e dallo schermo si vede il mio mondo domestico tutto attorno. E cos'è il pubblico? Cos'è il privato? Se non abbiamo già nessuno di noi più questa distinzione chiara, non deve stupire che anche il mondo del lavoro recepisca a modo suo, è un modo che dobbiamo tutto insieme ora mettere in discussione queste categorie. il sistema del resto, il sistema di questo mondo del lavoro divertente o del gioco affascinante, è un sistema che non punisce nessuno. È vero che io ho il rimborso spese e non ho lo stipendio, è vero che io mi loggo e che do la disponibilità e nessuno si può permettere di dirmi niente, di darmi ordini, di comandarmi qualche cosa. Ma è vero che è pur sempre un gioco, perché non significa che è senza regole, perché un gioco senza regole non esiste. Innanzitutto devo decidere di giocare, la mia libertà inizia e finisce esattamente in questo momento, se decido di giocare e dunque di partecipare a questo gioco lavorativo o se decido di non giocare. E chi vuole giocare deve impegnarsi deve giocare intensamente, perché come ogni gioco c'è una classifica. Quello che una volta era l'impiegato del mese e l'elenco, la graduatoria degli impiegati del mese, in un lavoro che è paradigmato a un gioco c'è una classifica, c'è chi arriva primo e c'è chi arriva ultimo in classifica. Chi fa bene sale in classifica perché acquista punti, chi fa male scende in classifica. Fare bene ed essere ai vertici della classifica e comporta una buona reputazione come giocatore barra lavoratore. Hai portato a complemento l'operazione, la missione richiesta dal gioco, l'utente, il pacchettino, l'hai portato in tempo come rider, l'utente è soddisfatto, ha messo like nella tua posizione. Bene, allora questo ti fa andare più in alto in classifica e se sei ai vertici di questa classifica del lavoro si può scegliere premialmente alcune cose, ad esempio l'orario delle disponibilità. Se sono tra i primi potrò dare la disponibilità in orari che scelgo io e non dovrò accontentarmi di orari che sono rimasti liberi che evidentemente saranno presumibilmente quelli più scomodi e disumani, potrò scegliere il tipo di missione barra lavoro da compiere, potrò scegliere se in bicicletta buttarmi a Calamizi o lontanissimo e perciò avere delle commissioni che sono in punti distanti l'una dall'altra trovandomi a dover rincorrere me stesso il tempo che mi trascorre oppure accorparmi tutti i lavori vicini con un effetto che è tipico dei giochi più si gioca più sei in alto in classifica più sei in alto in classifica più ci sono le condizioni per rimanere alto in classifica. Nulla che non assomigli a scenari più che da film da videogame e invece non stiamo parlando di un videogame stiamo parlando ad esempio del lavoro dei rider stiamo parlando dei lavoratori di Amazon o di Uber stiamo parlando cioè di attività propriamente lavorative come la giurisprudenza del resto ha finalmente preso atto che sono ma un modello che svele immediatamente la realtà che c'è dietro questi lavoratori anzi questi giocatori barra lavoratori pur creando potenziali nuove opportunità per categorie in difficoltà scrivono Aloisi e De Stefano le piattaforme impoveriscono il lavoro e realizzano un modello di competizione a ripasso il punto di forza rispetto ai rivali commerciali deriva dall'abilità di aggirare le regole del diritto del lavoro ma anche dal mercato rispetto agli obblighi assicurativi e previdenziali dunque non siamo qui in un gioco che ci pone fuori dal mondo del lavoro siamo semplicemente in presenza di lavoratori che sono fuori dal mondo delle garanzie del mondo del lavoro come benissimo dimostra un film abbastanza recente del 2019 di Kane Lodge se non l'avete visto non perdetevi fatevi quest'altro regalo Sorry We Miss You davanti a questo allora la sensazione che non ci sia un nuovo mondo ma solo una degenerazione della cultura dei diritti del vecchio mondo quello che esattamente e Chaplin ci raccontava in tempi moderni e questa è una sensazione che può trovare un qualche argomento e soprattutto conferma dell'idea che lo stesso Chaplin esprime nel film la disumanizzazione passa per la per la trasformazione del lavoratore in elemento funzionale al sistema produttivo è esattamente quello che in pagine ultra famose ed è inutile che ve le citi proprio in Audi diceva a proposito della società delle formiche la società delle formiche è la società nella quale ciascun individuo non è niente in sé e non è nulla in sé ciascun individuo ciascuna formica diventa qualche cosa nella misura in cui è il formicaio è il sistema funzionale del formicaio che lo rende importante e meritevole tant'è vero che tant'è vero che una formica senza il formicaio non è neanche una formica non può esistere ma attenzione la logica del formicaio è una logica per la quale seppur ci sono come tutti noi sappiamo dalle scuole elementari le formiche che fanno le operaie e le formiche che fanno come si chiamano i combattimenti e perciò le formiche militari non si è mai dato una formica guardiana che ha deciso per obiezione di coscienza di non andare in battaglia e non si è mai mai sentito mai quantomeno ha avuto notizia di uno sciopero delle formiche operaie e perché le formiche operaie non scioperano e non possono e non possono scioperare e perché la formica guardiana non può che non fare il lavoro che deve fare e perché lì l'individualità non esiste c'è il singolo che è una ruota dentata di un sistema funzionale tant'è vero che quando il singolo non funziona per una qualsiasi ragione non ce ne si deve fare carico lo si abbandona semplicemente quando la ruota dentata perde un dente o si riesce ad aggiustare o si deve cambiare ma allora proprio in Chaplin la fabbrica è emblematica della società e il lavoratore del cittadino il lavoro si rende paradigmatico di una società costruita oggi su questo grande gioco che combina social e reality in fondo coprendo il corpo docile che è sempre più docile a benvedere oggi più di ieri in realtà si sente libero di fare ma una libertà di fare che è sempre fare ciò che gli viene in fondo detto di fare un fare che è un ubbidire senza sapere però che quello eseguito è un ordine oggi non più gridato ma subitualmente suggerito instillato e perciò il nuovo corpo docile è colui che esegue l'ordine pensando che l'ordine se l'è dato da solo come supremo atto di libertà e affermazione di esistenza sta in realtà seguendo qualche cosa che il sistema ha indotto in lui e ha scelto per lui e in fondo ha comandato a lui di fare il lavoro proprio perché ma lo dicevo non a caso con Calamandrei all'inizio e con i riferimenti alla Costituzione tocca corde profondissime dell'essere umano e il lavoro continua ad essere al centro della società proprio perché è cartina di tornasole del fare sociale non può essere relegato allora a discipline semplicemente specialistiche perché si tratta di regolamentare né si tratta di adeguare alla società il lavoro ma di affrontarlo come quella dimensione nella quale si sviluppa e si costruisce la persona ma allora il lavoro non è un tema da giuslavoristi semplicemente è un tema politico è un tema socio-politico forse è per questo che Luigi Di Santo mi ha chiesto di parlarci di intrattenervi con queste pochissime considerazioni oggi un tema al quale in questa sede proprio non possiamo non dedicare specifiche attenzioni perché parlando di lavoro stiamo parlando del gruppo politico parlando di lavoro stiamo parlando della società che può avere al suo centro la dignità della persona dunque anche la dignità del lavoratore in quanto prima è persona e poi il lavoratore oppure la società che può avere al centro il lavoro della produzione che genera funzione che non è altro che quel sistema della società delle formiche oggi camuffata da grande gioco nel quale tutti ci divertiamo o siamo chiamati a partecipare per divertirci e dal quale in fondo però usciamo disumanizzati perché badate l'esperienza ripeto di questi anni non può non farci notare come ciascuno di noi nel perdere la distinzione tra pubblico e privato tra tempo lavorativo e tempo familiare e tempo personale e tempo di relax abbia perso una possibilità una tranquillità una serenità che è legata non all'ingranaggio delle macchine non alla formica operaia è legata a quella persona riconosciuta nella sua pienezza nel diritto fondamentale di costruirsi e di determinarsi nella propria pienezza un'alternativa tra centralità della dignità della persona e centralità della funzionalità sociale alla quale le nuove forme di lavoro a ben vedere non aggiungono e stravolgono nulla sono ulteriori sovrastrutture rispetto alle vecchie forme di precariato precariato non tanto rispetto alla stabilità all'ora dell'attività lavorativa precariato rispetto rispetto alla pienezza della persona ora il discorso e qui alvio alla conclusione magari iniziamo a ragionarci assieme voleva soltanto essere l'indicazione di alcune sollecitazioni proprio per avviare una riflessione comune ora qui il discorso non è tanto da fare tra il vecchio e il nuovo questo almeno era l'obiettivo uno degli obiettivi che mi sono posti perché una logica che corre il rischio di non fare capire quanto in realtà la consistenza delle cose delle quali dobbiamo discutere non cambia è sempre la stessa i rischi e i pericoli sono sempre gli stessi soltanto che le luci e le ombre sono a volte invertite le ombre che di solito nascondono e le luci che corrono il rischio però di abbagliarci e allora tra luci e ombre e tra luci e ombre dobbiamo comprendere che precario è il lavoratore che non è messo nella condizione di essere riconosciuto prima come individuo è un individuo che è tale in quanto persona una società che non ha questo come obiettivo centrale come perno del farsi sociale è una società che si costruisce su un'idea che non è di dignità ma di disumanità una società che tende a trasformare l'umano in disumano il lavoratore in una macchina la persona in una funzione con una conseguenza radicale basata perché nei confronti della persona ci possono essere ancora riferimenti a una cultura dei diritti ma con riferimenti alla macchina la cultura dei diritti non si attiva nemmeno la macchina è quella che è destinata a funzionare fino a quando non si guasta e quando si guasta tendenzialmente ormai lo sappiamo non si ripara più nulla si getta si cassonettizza e si trova un'altra macchina magari migliore magari più avanzata magari più potente ecco allora come si capisce il perché forse il nostro costituente abbia messo la parola lavoro come prima e fondativa della Repubblica italiana si capisce perché Calamandrei ci ammonisce e ci avverte dicendo badate che il lavoro non è soltanto un'attività in quanto tale destinata alla sopravvivenza del singolo lavoratore o del singolo individuo il lavoro è quella dimensione che garantisce la democraticità di un sistema un sistema che custodisce la dignità delle persone siamo su due livelli incommensurabilmente diversi l'uno è il livello di Calamandrei del costituente una cultura una filosofia dei diritti politici e giuridici l'altro l'altro è il livello di una incultura dei diritti è una macchinalizzazione dell'umano non si tratta di demonizzare né l'algoritmo né la società attuale né il selfie né il social né i reality per carità di Dio io preferisco il grande fratello di Orwell a quello televisivo però ognuno ha i suoi gusti e credo di avere il diritto fondamentale di tenermi i miei gusti e di non imporli agli altri ma non si tratta qui dicevo di dire che tutto ciò che è nuovo è sbagliato si tratta di uscire però dal grande inganno che tutto ciò che è nuovo è necessariamente migliore e soprattutto di percepire come la consistenza delle cose prescinde da ieri oggi e domani perché la consistenza delle cose è quell'invariante legata all'umano che c'è da quando c'è l'essere umano e ci sarà fino a quando ci sarà l'essere umano mi sembra così di avervi annoiato abbastanza e sono però più curioso di sentire voi che di continuare a parlare io anzi forse avevo detto che avrei tenuto i tempi molto più stretti e non ce l'ho fatta però purtroppo i professori universitari quando vedono un microfono non resistono ad appropriarsene e ad abusare come ho fatto io e mi scuso grazie ringraziamo il professore Gananzi per questa bellissima lezione non sono affatto pochi spunti o pochi suggerimenti ma è una lezione importante una lezione che insomma almeno per quanto mi riguarda ha detto tantissimo e concordo in gran parte con tutto quello che ha detto perché sono è anche il mio assetto valoriale insomma e gli spunti sono tanti io non voglio rubare tempo al dibattito però qualcosa lo vorrei dire francamente non solo ringraziare il professore Gananzi ma dire qualcosa perché il lavoro è un tema a me molto caro ed è veramente insomma piena la consapevolezza di uno sguardo diverso rispetto a questo tema e riscontro pienamente il il tentativo di ben riuscito di analisi sulla questione della 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 felicità sociale una felicità che a quanto pare è semplicemente di facciata sciocca uno sguardo uno sguardo attualmente perso quasi in un in uno spettro difficilmente difficilmente intracciabile e questo perché secondo me come diceva benissimo il professore Gananzi siamo di fronte a delle trasformazioni così repentine che è complicato in questa questo complicato nel vero senso del complesso è complicato dare delle definizioni o quantomeno delle dei saperi dei saperi che incontrovertibili rispetto al tema e è chiaro che sono perfettamente d'accordo sulla sulla impossibilità di questo lavoro inteso nella metafora del gioco di creare una relazione con l'umano qui manca radicalmente la relazione con l'umano perché quando nella relazione abbiamo ascoltato che siamo di fronte a un lavoro svolto dai singoli effettivamente non c'è nessuna apertura verso l'altro e quindi solo nella relazione il lavoro può avere una sua visione pedagogica educativa come dico sempre formando il mondo forma me stesso ma in questo caso non può avvenire non c'è l'altra parte e quindi non c'è quello spazio educativo che ritengo fondamentale è un lavoro troppo disumano possiamo dire troppo disumano e che comportano una disumanizzazione di fondo è chiaro che questa disumanizzazione nasce dal fatto che come dire gli aspetti del positivo sono preponderanti sono perfettamente d'accordo sul fatto della visione esagerata del positivo anche se devo ammettere che oggi più che mai anche per un fatto di karma parlare di positivo non è proprio come dire il massimo per cui una sorta di vendetta del destino però effettivamente il positivo in qualche modo ha riempito le croneche prepandemiche oggi quando qualcuno utilizza questo termine lo fa con grande attenzione quasi con una smorfia di diciamo di ecco insomma di ritegno rispetto al termine questo è un fatto un fatto come dire da guardare con il sorriso amaro del karma e io ritengo molto originale il punto di vista del gioco e mi porta alla mente insomma anche proprio per onorare anche con la dimensione giuridico letteraria alla quale il professore Garanti spesso si richiama mi vennero in mente due cose innanzitutto questo lavoro un lavoro di una gioia finta una gioia che porta all'annichilimento al nulla una sorta come per citare la di caparezza una voglia infinita di uscire dal tunnel del divertimento in questo senso oppure ancora invece una cosa magari meno divertente tragicamente meno divertente questa visione del gioco che crea sostanzialmente anche dentro la sua connotazione un aspetto appunto di occupazione lavorativa alla fine fondamentalmente mi fa pensare a questo ultimo come si diceva oggi serie che è Squid Game dove c'è che ho visto e effettivamente lì è tutto basato sul gioco che porta poi fondamentalmente al guadagno dove c'è il massimo della 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 competizione al punto tale da morire io credo che quella sia l'estremizzazione fondamentalmente del discorso chapliniano del discorso di Chaplin di Chaplin a cui faceva riferimento il professore Cananzi Squid Game è i tempi moderni dell'oggi dove sostanzialmente persone che competono fino alla morte pur sapendo di morire spronate solo dal profitto e dalla disperazione ebbene questi sono gli aspetti che io credo siano fondanti aspetti che il professore Cananzi ha messo abilmente alla nostra attenzione e per questo vi chiedo di contribuire al dibattito e di intervenire ringrazio ancora il professore Cananzi grazie a te grazie a te anche perché insomma sì anche declinato soprattutto declinato alla prima persona l'essere positivo oggi effettivamente non è non è un vanto però guardate i giuslavoristi e il ministero della giustizia ci informano con un certo orgoglio che negli ultimi anni c'è stato l'abbattimento del 50% del contenzioso di diritto del lavoro ovviamente che è un gran successo o forse no perché dipende è perché l'abbattimento del 50% del contenzioso si può ottenere o riducendo la conflittualità e perciò c'è meno conflitto e perciò c'è meno contenzioso il contenzioso è le cause di diritto del lavoro ma lo stesso risultato si può ottenere in un altro modo riducendo l'accesso alla rivendicazione dei diritti e allora porta sempre allo stesso risultato del 50% di abbattimento del contenzioso ma nell'un caso è perché c'è una migliore qualità della vita lavorativa e sociale dunque nell'altro caso è perché c'è una molto peggiore qualità della vita sociale e lavorativa perciò cercavo di dire delle luci e delle ombre perché a volte ci perdiamo la consistenza delle cose diventati che si confondono e questo del 50% mi ha molto stupito perché lo si presentava come una conquista finalmente anche nel nostro paese i processi il numero di processi si abbatte ma appunto lì si può abbattere in tanti modi forse quello peggiore è quello che stiamo perseguendo però anche qui sono idee personali che evidentemente tradiscono il mio essere fedele a Calamandrei e a quello che diceva della Costituzione e dell'OA bene allora posso intervenire certo Raffaele mi sentite? lei usa la mascherina anche quando sono a casa no mi trovo in studio mi è entrato il collega di studio per questo ho dovuto mettere la mascherina chiedo scusa la sto togliendo infatti è un provato era una battuta di chi non si vede no lo so buonasera professore vai Raffaele buonasera no io diciamo sulla parte relativa all'assemblea costituente io se fosse possibile aggiungerei una cosa cioè più che raggiungerei un'osservazione proprio su quell'articolo il primo articolo è stato grande non solo il dibattito tra le diverse posizioni politiche ma anche all'interno perché padre dell'articolo 1 è Amintore Fanfani la contrapposizione di un altro democratico cristiano quale il costituzionalista Costantino Mortati e quindi l'idea di valore in Mortati l'idea invece di diritto dovere che è la versione definitiva data da Amintore Fanfani e quindi quella che è la visione di tutti i grandi eh cioè i grandi pensatori allievi tra virgolette di dell'allora Monsignor Montini tra cui anche Giorgio Lapira voglio dire quindi quel trinomio nella parte finale della sua relazione ehm sul lavoro società persone e quindi l'inserimento del lavoro come un diritto dovere di contribuzione a quello che è il bene comune finale penso che questa possa essere anche eh la visione sicuramente eh il contributo importante di Mortati ma la la visione definitiva di un grande eh studioso poi del processo del diritto del lavoro eh sul capitalismo quindi eh a Minto rifampani che poi negli anni cinquanta sarà colui che eh procederà al famoso piano case eccetera non so se condivide questa idea sì sì no indubbiamente le ricordano i miei autorevoli del dibattito costituente non solo eh nomi che rappresentano anche idee e idee che rappresentano un nucleo valoriale eh indubbiamente ma anche un nucleo eh fondante di valori fondanti dalla la giuridicità eh perché è chiaro che è la dimensione lavorativa ma lo diceva benissimo anche il professor Di Santo prima è una eh dimensione eh in questo senso costituzionale e costituente relazionale la persona nella sua interezza della della quale eh parla proprio il testo costituzionale è e non è l'individuo isolato non è la macchina ma non è neanche eh non è neanche la 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 l'individualità narcisistica c'è una bella pagina di Segueri che forse la potrà appassionare eh dottor Maione nella quale pagina Segueri eh Pierangelo Segueri noto teologo eh uno dei più apprezzati in Italia viventi in questo momento dice beh la modernità non tanto inizia come scrive eh Marx con il novello prometeo la modernità inizia col novello narciso di cui ci parla Stirner non a caso e questo forse fa fa pensare fa pensare che alla fine eh la felicità sociale è è una cosa importante certamente ma rischia il la felicità di essere fraintesa eh eh anche più tra l'individuo nei gusti non sono sullo speed game ma sono su eh Pinocchio di Collodi in fondo Pinocchio che cosa fa? Va nel paese dei balocchi e nel paese dei balocchi che cosa si fa? Ci si diverte tutto il giorno e che cosa si fa però effettivamente nel paese dei balocchi? Si diventa asimo si perde si si smette di essere persone si diventa asimo e l'asimo colui che deve fare un compito devo svolgere un compito senza se e senza ma utilmente e pazientemente il corpo docile non a caso vicino al paese dei balocchi c'è acchiappacitulli il paese dove viene condannato per avere denunciato il furto vedete la felicità sociale tende tende a essere molto meno molto più concreto e vicino a noi di quanto non si non si crede se andassimo in questo momento sempre così virtualmente a Dubai atterrando l'aeroporto di Dubai ci accoglierebbe una scritta bellissima che potrebbe essere esattamente quella che ha accolto Pinocchio nel paese dei balocchi benvenuti nella città più felice del mondo Dubai benvenuti nella città più felice del mondo dopodiché esattamente come nel paese dei balocchi a Dubai ci sono due Dubai c'è la Dubai della felicità dove tutti sono ricchi e dunque apparentemente felici e la felicità e la Dubai di quelli schiavi senza nessun diritto molto peggio dei nostri lavoratori senza diritti in Italia che sono sfruttati e che mantengono sono i nuovi asinelli del paese dei balocchi che mantengono lo sfarzo della Dubai la città più felice del mondo e davanti a questo che cos'è il lavoro il lavoro del ciuchino del paese dei balocchi o il lavoro che nobilita l'uomo mi sembra una risposta che apre ancora una volta ulteriori interrogativi mi veniva in mente ma non voglio togliere spazio agli altri interventi prego allora Letizia e Salvatore ovviamente è anche Carmen quindi Salvatore da buon gentilumo farà parlare prima Letizia e poi carne grazie 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 professor Cananzi per questa bellissima lezione la mia vuole essere una piccola riflessione riguardo appunto quella disumanizzazione di cui abbiamo parlato e la vorrei però ricollegare anche al concetto di formazione del lavoratore credo che la pandemia ci ha queste nuove forme di lavoro mi riferisco ad esempio alla didattica a distanza ovviamente professori universitari magari hanno avuto meno problemi ma professori delle scuole elementari superiori hanno avuto davvero molte difficoltà quindi mi viene da pensare quasi ad una corsa nell'acquisire queste famose nuove competenze e allora anche il correre per essere al pari delle nuove forme diciamo del nuovo lavoro inteso post pandemia porta in questo senso a formare a correre e quindi a lasciare indietro chi magari non riesce ad acquisire nuove competenze non bastano più quelle già acquisite ma si deve si deve correre 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 anche che questa disumanizzazione porta anche un indebolimento della professionalità della forza della forza lavoro quindi anche anche il ruolo secondo me della formazione è cambiato oggi condivido perfettamente con lei la considerazione la formazione del lavoro si è bloccata l'immagine sono io che non no io non la sento mi sento il professor Cananzi sento lei ok ritorna mi sentite ora? si scusate ma ho notevoli problemi di telefono allora torno in torno col cellulare dicevo l'abissale ingiustizia alla quale abbiamo dovuto necessariamente giocoforza assistere in pandemia qual è stata? la distinzione tra università e scuola ha ragione all'università abbiamo avuto meno difficoltà ad adeguarci non tanto perché il professore universitario abbia delle competenze informatiche che in buona sostanza non aveva e in alcuni casi paradossalmente continua a non avere ma perché l'università ma perché l'università in realtà aveva la formazione del laureatore autodidata in pandemia la distinzione tra università mi sentite ora allora torno alla l'uva e a ragione delle competenze informatiche perché l'università perché l'università ora mi sento più pronto professore ora la sentiamo credo che ci sia un problema perché è collegato con due account contemporaneamente contemporaneamente no ora ho tolto quell'altro e sono rimasto vai Daniele adesso sei unico è bilocato ora sono unico sono tornato un'unità di conto no dicevo nella scuola in realtà non c'erano le strutture che l'università aveva ed è stato più semplice per l'università con un scotto fortissimo che pagheremo tutti che la distinzione sia anche avuta tra zone dove c'è il segnale internet e dove non c'è il segnale internet per più di un anno intere generazioni di ragazzi delle scuole elementari e medie non hanno avuto scuola e lo so per diretta presa visione e molti hanno molte maestre elementari hanno fatto lezione con whatsapp cioè mandando per whatsapp dei compitini a casa come come se questo potesse essere sufficiente evidentemente non è sufficiente ognuno fa quello che può in emergenza però dico ci sono dei bambini del di prima seconda elementare terza elementare quarta elementare quinta elementare che per due anni non hanno fatto scuola e che quando quest'anno sono tornati a fare scuola non erano più scolarizzati o non erano ancora scolarizzati essendo entrati proprio nel mondo scolastico con la pandemia e questo che cosa dice dice tante cose dice che avremo delle generazioni molto probabilmente con delle con delle lacune clamorose che non sono soltanto lacune di nozioni ma sono lacune di formazione personale perché la scuola il mondo della scuola è innanzitutto un mondo dove il bambino poi il ragazzo si forma come persona della scuola questo vale anche per l'università con tutti i dovuti rapporti naturalmente non vale soltanto l'apprendere ma vale il relazionarsi questo è mancato e di questa mancanza credo realisticamente che stiamo già vedendo gli effetti ora si vedranno anche nel medio e nel lungo periodo detto questo e tornando alla sua domanda che era più specifica sulla formazione del lavoratore è anche qui non paghiamo forse lo scotto di una pigrizia nell'attenzione alla formazione del lavoro e del lavoratore e questa pigrizia poi dico pigrizia per edulcorare i termini questa pigrizia si paga perché due studiose americane anni fa hanno fatto il botto come si dice titolando un loro saggio il costo dei diritti uno dei più citati per il continuo essere molto citato perché la formula è esatta i diritti costano c'è poco da fare e il costo economico dei diritti una società deve chiedersi se lo vuole sostenere o meno se non lo vuole sostenere e questo significa che dice ciao ciao ai diritti ma dice ciao ciao anche a un livello adeguato o che di solito si ritiene adeguato di società se li vuole sostenere se li vuole sostenere allora si parla di quell'individuo nella pienezza e di quel lavoratore che non è una macchina è una ruota dentellata ma è qualcosa di più e io voglio continuare ostinatamente a pensare che ciascuno di noi è sempre qualcosa di più rispetto a ciò che è e ha una funzione in quello che fa che è maggiore rispetto all'attività che svolge il bravo insegnante non si limita soltanto a insegnare ma aiuta a formare la personalità dei suoi studenti il bravo muratore non si limita semplicemente a intonacare bene un muro ma costruisce un qualche cosa nella quale si svolgerà una vita familiare relazionale funzionale cioè c'è un sovrappiù sociale nell'attività di ciascuno non comprendere questo secondo me è molto limitante perché fa pensare che tutto può essere derubricato ridotto in proporzione e ma qui non funziona non c'è questa aritmetica nel sociale e il sociale si svolge su una su su un'algebra più che su un'aritmetica forse grazie grazie mille professore salve salve a tutti allora volevo fare un'osservazione diciamo che questo processo di datificazione della realtà ha comportato comunque una crisi del concetto di persona un concetto che già ha una invadente polisemia come ben sappiamo e un'intima antinomia che si rinviene già nella sua etimologia di maschera perché come tutti ben sappiamo da un lato permette l'entrata sulla scena del diritto dall'altro la maschera spersonalizza e quindi accomuna un interprete e un attore ad un altro attualmente assistiamo ad una crisi della persona e ad un emergere del concetto di user cioè praticamente siamo diventati utenti e ciò riflette quello che è il passaggio del potere diciamo da un potere piramidale ecco tipico della riduzione ad unum obesiana siamo pervenuti ad un potere reticolare dove l'eccezione praticamente diviene continua diviene ossimoricamente continua cioè l'epoca dell'eccezione praticamente mi chiedevo fino a che punto questa categoria di user è davvero compatibile con il concetto di democrazia nel momento in cui assistiamo a questo internet of everything cioè in un mondo dove tutto è connesso cioè dove le cose sono connesse e si bypassa il soggetto cioè assistiamo comunque ad un'oggettivizzazione del soggetto quindi fino a che punto questa categoria è compatibile con il concetto di democrazia sì è una bellissima domanda dunque c'è diciamo così è in uso spesso dover usare delle categorie a sproposito cioè universalizzare la categoria e sostituirla con con il genere questo sulla cittadinanza capita quasi sempre fino a qualche anno fa il cittadino non era più cittadino era consumatore ora il cittadino non è più consumatore non è neanche più cittadino è utente di qualche cosa ora le parole io sono un giurista per me le parole hanno un significato specifico e si dovrebbe cercare di usarle sempre a proposito parlare di utente e parlare di cittadino non è la stessa cosa perché l'utente è l'utente di un servizio è una dimensione già più più ridotta il cittadino invece è una categoria universalizzante della società l'utente è sempre utente rispetto a un aspetto a un servizio il cittadino non è cittadino rispetto a un solo servizio è cittadino e i servizi tutt'al più sono rivolti al cittadino nella totalità della sua persona nella pienezza della sua persona questo dice lei ha una ricaduta sulla sulla qualità o comunque sulla dimensione della democrazia ma certo che ce l'ha ma certo che ce l'ha torniamo alla nostra bella costituzione la nostra costituzione affida ad esempio ai partiti politici una un ruolo una funzione fondamentale perché democrazia non è né il governo della maggioranza nella definizione procedurale che alcuni hanno dato bobbio tra questi peraltro perciò non è una tesi banale ma democrazia non è neanche che è il popolo che governa e cosa significa il popolo che governa non a caso nell'antica Grecia c'era come noi sappiamo una diffidenza assoluta sul sistema democratico e i greci che certamente come intelligenza possono competere con noi e secondo me vincono pure i greci non erano democratici non erano per la democrazia erano per l'aristocrazia perché perché dovendo decidere chi deve comandare chi deve comandare chiunque o i migliori e il mondo greco si dice devono comandare i migliori e i migliori chi sono quelli che sono capaci è un'idea aristocratica però molto democratica in realtà la democrazia non a caso nasce sempre in Grecia la pervertire l'idea di democrazia che cosa significa beh la democrazia è che il popolo può votare è chiamato ogni cinque anni a votare vota e se il popolo vota allora siamo in democrazia ma manco per il piffo come direbbe il pifferaio magico tanto per rimanere nelle favole la costituzione dice che certamente il popolo esercita il diritto di voto e deve votare ma chi è sto popolo? il popolo è fatto da cittadini e chi sono questi cittadini? sono coloro che partecipano al fare sociale e partecipano non passivamente ma attivamente partecipano attraverso quelle organizzazioni politiche che organizzano e dunque forniscono gli strumenti di pensiero critico che porteranno poi i cittadini democraticamente a esprimersi ma a esprimersi come persone informate sui fatti non come sprovveduti del resto anche qui ragionando per categorie la distinzione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa oggi richiamata in ballo dalle cosiddette nuove forme di democrazia elettronica è una distinzione non banale ripeto democrazia non è semplicemente che il popolo vota perciò può votare elettronicamente può votare può votare direttamente può votare attraverso i propri rappresentanti sono differenze macroscopiche perché nella democrazia rappresentativa non è tanto il privilegio del rappresentato quanto il dibattito che c'è prima della decisione a essere rilevante è una democrazia che punta alla qualità del dibattito per arrivare alla decisione la democrazia diretta invece è la democrazia della decisione che tendenzialmente soprattutto nella modalità elettronica non ha dibattito io posso essere un utente di una piattaforma che mi fa votare e mi fa votare le leggi del mio paese benissimo divento parlamentare eliminiamo la casta e ogni cittadino direttamente partecipa attivamente alla produzione normativa decide tutto questo sistema anche qui sembra meraviglioso se non vediamo poi il lato B che non è sempre quello più bello ma è anche quello più oscuro in alcuni casi come in questo il lato B significa che in questo sistema è il gestore della cosiddetta piattaforma ha una funzione determinante non c'è confronto non c'è dibattito io sono chiamato a votare a dire sì o no ma su una proposta che non contribuisco a formulare io io dico sì o no ma rispondo a una domanda nella quale io non ho messo bocca e chi ha formulato la domanda è colui che ha il vero potere perciò io ho un potere molto ridotto ecco perché il cittadino ha una dimensione più ampia e il cittadino ha una dimensione che è quella della pienezza della persona umana l'utente il consumatore sono sempre frammenti di persona e secondo me è un grave errore universalizzare il frammento e rendere tutto semplicemente esaurito in una sua parte è un errore che Aristotele già condannava tanto per citare il mondo greco e che noi però ci ostiniamo a continuare a commettere in maniera anche abbastanza curiosa perché è evidente che il concetto di cittadinanza è molto più ampio Salvatore sì grazie grazie professor Cananzi intanto per la meravigliosa suggestione sul gioco perché insomma la toccavamo un po' tutti con mano nella tratteggiare il lavoro così come partorito dall'economia dei lavoretti dall'economia post-forvista e devo dire che volevo riproporre oggi con maggiore curiosità per me insomma che sono un giovane dottorando in filosofia del diritto una suggestione su cui qualche settimana fa ci siamo confrontati al professor Passa all'acqua e che io le ripropongo perché ovviamente sono interessato a una sua opinione da filosofo del diritto che credo sia il tema su cui l'economia dei lavoretti il lavoro così come contemporaneamente concepito solletica direttamente filosofi del diritto ma perché mi è capitato di imbattermi altresì in qualche contributo di gius lavoristi che hanno solleticato filosofi del diritto su questo tema su un tema diretto antico che è la questione dell'interpretazione perché come ben ha detto lei in principio chiaramente il diritto del lavoro è stato sempre caratterizzato per certi versi da uno schematismo tipico anche della dicotomia autonomia subordinazione innanzi alla quale il legislatore ha sempre provato a dire la sua ma la crisi della fattispecie che ci è stata anticipata da Irti e poi conclamata da Santoro Passarelli come crisi della fattispecie gius lavoristica è piombata in modo come dire inevitabile nell'economia dei lavoretti innanzi a tale crisi però il quelli che erano sempre stati i casi facili per dirgli con Manolo Atienza per cui il giudice del lavoro l'interprete qualificato era chiamato ad un approccio tipico del giudice del lavoro sì logistico o deduttivo e quindi la sussunzione di questa nuova forma di lavoro è andato a quella categoria astratta è andato in cortocircuito nel momento in cui il ride sharing il delivery food questo gioco perverso che lei ci ha meravigliosamente tratteggiato non è rientrato più in quegli schemi eppure il clamore mediatico si è registrato proprio perché il giudice automaticamente e in questo intravedo forse la risposta e l'attendo insomma chiaramente si è dimenticato delle premesse dei padri costituenti non da ultimo calamandrei e si è dimenticato del ruolo straordinario che la creatività e la forza dell'argomentazione nella soluzione giurisprudenziale può rappresentare affrancandosi dal sillogismo deduttivo cioè quindi quei casi che fino ad allora erano stati facili con l'innovazione sono diventati al diritto del lavoro dei casi difficili che reclamano per conferire dignità uno strumento ermeneutico un approccio differente che è proprio dell'argomentazione in cui la dignità a cui lei ha fatto riferimento a cui il professor Di Santo hanno fatto riferimento dovrebbe rappresentare poi non solo l'orizzonte ultimo ma anche probabilmente il maxi argomento interpretativo e questo è un po' volevo insomma una tua opinione su questo grazie Sì indubbiamente indubbiamente è così le controverse di diritto del lavoro su questa gig economy e sui lavoretti come si dice in gergo è interessante io sono sempre convinto che l'attività del giurista non sia quasi mai sillogistica va di segno anche logica capisco che in un mondo come quello del lavoro standardizzato precedente il processo del lavoro fosse tendenzialmente quasi automatico in determinate case e seriale addirittura la produzione seriale dei provvedimenti in realtà però da profondo amante di capograssi dico che il diritto ha sempre a che fare con quell'esperienza che fugge qualsiasi automatismo e la bellezza del diritto e soprattutto dell'attività del giurista è proprio quella di di sforzarsi di trovare sempre la misura corretta la misura giusta per misurare la realtà una realtà che è magmatica che sfugge qualsiasi misurazione qui è il fantastico ruolo del giurista quelle di oggi sono delle vere e proprie sfide a una certa dogmatica che c'è sicuramente anche nel diritto del lavoro si è accumulata ma io non sono molto convinto che si tratti di abbandonare l'impianto precedente per uno nuovo si tratta tutt'al più di sfrondare l'impianto precedente dalle incrostazioni che si sono formate nel tempo e tornare a renderlo dinamico come sempre come sempre deve essere e ci sono quelle bellissime pagine di Filippo Vassalli su arte e vita del diritto che sono raccolte nel terzo volume degli scritti dove Vassalli esattamente molto capocrassianamente sviluppa questa idea della scienza giuridica come una scienza che mette assieme la misura e la vita non intendendo né una misura che mortifica e ferma la magmaticità dell'esistenza né una vita che desidera sfuggire alla misura del resto parliamo di chi Filippo Vassalli era presidente della commissione che ha scritto il nostro codice civile del 42 e Filippo Vassalli da giure consulto era colui che del codice aveva un'idea molto critica per lui la norma la norma codicistica in maniera emblematica non è la soluzione delle cose è lo strumento per trovare la soluzione ecco in questa in questa visione eh eh Vassalliana il diritto del lavoro oggi è chiamato delle sfide che poi non sono chissà quali secondo me sfide epocali si tratta di prendere le vecchie fattispecie e e usarle come il giurista ha sempre usato la fattispecie cioè la fattispecie la crisi della fattispecie della quale parla Irsti non a caso è la crisi di che cosa di un modo di vedere il diritto che che cerca di risolvere casi analoghi in modo analogo e casi differenti in modo differente la fattispecie nasce come elementare ragione di eguaglianza logica nelle valutazioni dei casi dire che la fattispecie entra in crisi significa infatti innescare una visione del diritto che ne modifica la funzione la funzione che diventa a questo punto risolutiva ma risoluzione significa che ogni caso deve avere una sua soluzione questa soluzione non deve rispettare l'idea che deve essere in linea con le soluzioni di casi analoghi perché non c'è più la fattispecie entrata in crisi deve semplicemente risolvere il problema ora come nella settimana enigmistica uniamo i puntini e vediamo che immagine esce fuori la crisi della fattispecie gli studi sulla crisi della fattispecie escono fuori dopo dopo la stagione iniziata nel 2004 con il nichilismo giuridico il nichilismo giuridico esce dritto dritto dagli studi degli anni 80 sulle date della decodificazione e le date della decodificazione esce dall'IRTI che è un gius positivista che è il seniano amante peraltro e non è un caso di di Schmidt ora se uniamo i puntini che cosa abbiamo abbiamo che la crisi della fattispecie è l'esito di una riflessione che ha un'origine in un diritto che è gius positivistico e che del gius positivismo riconosce con onestà intellettuale che alcune questioni non sono più ammissibili possibili di questo mondo e perciò trova degli adattamenti ma partendo dalla radice gius positivistica si arriva al diritto che deve essere adeguativo e risolutivo se noi non partiamo dal 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 dalle premesse gius positivistiche dove arriviamo? Arriviamo dove arriva un altro grandissimo privatista italiano al pari di Natalino Irti Giuseppe Benedetti Giuseppe Benedetti non parte dal da Gelsen dal positivismo parte dall'ermeneutica di Emilio Betti parliamo di Emilio Betti non è che parliamo di uno un fricchettone diciamo ecco parliamo di uno molto rigoroso una formazione tedesca anche in parte dogmatica ma parliamo di uno che parte da una visione ermeneutica e non gius positivistica e dove arriva Benedetti arriva a discutere criticamente la crisi della fattispecie perché perché è la visione giuridica che la filosofia del diritto che c'è sotto che è differente non ha quei presupposti ma ne ha altri e allora in quest'altra direzione e dimensione la soluzione del caso e la soluzione del caso non è fine a se stessa l'interdipendenza delle soluzioni e fa sistema e sistema che rispetta un'idea alla base un'idea di giustizia alla base che non a caso nella crisi della fattispecie non esiste più ma non esiste più perché l'avevamo tumulata già con la Rainer Exler dicendo che la giustizia non è una cosa che deve occupare l'orizzonte di pensiero del giurista però professore così a naso sembrerebbe che poi c'è una filosofia della giurisprudenza sottesa che possa garantire più tutele di un'altra cioè che se non non c'è uno sforzo in una direzione probabilmente il lavoratore rimane frustrato perché cioè inevitabilmente questa poi è stata come dire il mio spunto cioè il mio primo il caso ha voluto che il mio primo contributo è stato appunto su questo tema del diritto del lavoro prendendo spunto dalle dalle sentenze dalle prime sentenze fu d'ora fu diglio in cui era evidente questo approccio logistico deduttivo e la soluzione che ha fatto l'amore poi mediaticamente ma era e quindi a maggior ragione lei mi ha incanalato verso cioè pare che probabilmente la filosofia della giurisprudenza Bettiana e quindi Benedettiana forse ci garantisca qualche risposta più efficace in questo caso rispetto a secondo me è appunto non a caso uno di quelli che di più hanno lavorato e per primi peraltro diciamo nelle generazioni dei viventi mettiamola così ha lavorato a questo è proprio il professor Antonio Punzi e non è caso che il professor Antonio Punzi è diciamo molto è stato molto vicino a Benedetti anche come posizioni non solo umanamente ma tutti siamo umanamente vicini anche a Irti peraltro ah no no si infatti no no è certo questioniamo sopra ogni cosa però dico non è un caso che il professor Punzi lavori da anni a una filosofia della giurisprudenza una filosofia della giurisprudenza vicina a Benedetti nella misura in cui ha una forte matrice capocrassiana nella misura in cui riconosce anche i passaggi fondamentali del giustosidivismo e del normativismo in particolare nell'elaborazione della scienza giuridica quindi non c'è la volontà di dire qualcuno non meritava di essere presente nella storia c'è ciascuna dato il proprio contributo il resto senza il normativismo senza il positivismo prima sarebbe stato complicato senza la modernità mettiamo infatti secondo me una posizione aiuta a comprendere meglio l'altra almeno dalla mia prospettiva quindi del resto se facciamo l'ultimo nome che manca Paolo Grossi abbiamo però penso che il professore ci stia sollecitando grazie grazie mille Daniele tutto questo discorso di Salvatore è arrivare a citare Antonio Punzi l'abbiamo capito chiaramente ma non era necessario perché siamo i nostri pensieri i nostri cuori non ne avevo dubbi però Giulio è maestro perciò essendo maestro veramente maestro Giulio grazie professore volevo ringraziare molto il professor Cananzi per per questa lezione così interessante così ricca di spunti di riflessione che hanno messo in luce anche quanto si hanno state lungimiranti le politiche le decisioni di politica del diritto dei dei costituenti in materia giuslavoristica e e forse anche un po' cercando di rimanere sul sull'essico di di Calamandrei come siano state presbiti quelle quelle disposizioni e la loro lungimiranza non so se se mi inganno ma forse è dimostrata sia dal fatto che noi oggi le elogiamo e le apprezziamo e le guardiamo con molto favore e al contempo forse la lungimiranza è dimostrata dalle critiche che le hanno colpite almeno da una parte della della scienza giuridica della metà del novecento penso in particolare a quelle a quei giuristi che si erano formati nella culla dello Stato liberale di diritto come Vittorio Emanuele Orlando o Arturo Carlo Iemolo che avevano criticato vigorosamente il l'articolo uno della della Costituzione come una previsione giuridicamente evanescente come un velo di nebbio dietro a cui non c'era nulla e però insomma ecco il favore con cui noi guardiamo a queste a queste previsioni normative forse ci induce a ritenere che questa è veramente la strada maestra per arginare quelle derive tecniche che hanno negli ultimi tempi negli ultimi decenni esasperato la logica funzionale del lavoro che hanno collocato il lavoro nel cono d'ombra del fondamentalismo funzionale un po' anche come dimostra in particolare il settore della logistica che sembra che sia la dimostrazione più più concreta di come l'algoritmo sia quell'ingranaggio che schiaccia il lavoratore e che frustra la dignità del lavoro e quindi forse per ritornare a quei principi a quei principi così lungimiranti così presbiti l'operazione da compiere è proprio quella della Corte Costituzionale ossia di passare da quel diritto del lavoro le cui garanzie possono essere luse come lei ci indicava al diritto al lavoro a quei principi generali che informano l'intero ordinamento e che a differenza della disciplina di settore sono ben più complicati da eludere grazie professore grazie a lei la sua considerazione la condivido pienamente mi limiterò a dire una cosa fino a qualche anno fa il diritto del lavoro era una disciplina che oggi non è più ha ragione lei non è più la stessa disciplina nel giro di pochi anni gli studiosi di diritto del lavoro hanno visto radicalmente non dico geneticamente ma radicalmente modificarsi ciò sul quale erano applicati e fino a qualche decennio fa il diritto del lavoro era il diritto della conservazione e della tutela del posto di lavoro oggi il diritto del lavoro è la disciplina che studia il diritto nell'accesso al mondo del lavoro è cambiata la materia proprio ripeto non è un cambiamento genetico che sarebbe una trasformazione è semplicemente che è cambiato il taglio l'ottica è cambiato il taglio l'ottica perché? perché è cambiato il mondo del lavoro nel senso che non c'è più la prevalenza di un lavoro che va tutelato è garantito con questo focus ma c'è la problematica dell'accesso al mondo del lavoro e perciò di tutte le forme che infinite forme che si danno tra il non lavoratore e il lavoratore stabilizzato con una pensione che gli è garantita e tutto il resto tra questi due poli e tra questi due poli si potrebbe citare Shakespeare ci sono infinite infinite categorie di laboratori o meglio forse non ci sono più le categorie ci sono soltanto i laboratori e questo rientra nell'ottica della crisi della fattispecie peraltro di cui so condivido il suo intervento e la ringrazio ringrazio anche tutti voi non solo perché prima mi avete ascoltato pazientemente e attentamente ma perché state insomma facendo quello che io speravo faceste cioè state facendo la vera la vera lezione con i vostri interventi insomma sono qui per questo grazie bene grazie a te io non vedo altri interventi se non ci sono data l'ora e dato che abbiamo e mostri della fame a volte non vorrei esagerare non vorrei formichizzare questo regananza e quindi direi giudere io vi ringrazio anche per la seconda cosa perché oggi pomeriggio ero abbastanza distrutto quando abbiamo iniziato ma come come sempre mi capita quando poi inizio a fare lezioni o a conversare di cose poi mi riprendo e ora sono molto più riposato di quanto non fossi due allora facciamo un altro giro di domande no va bene ok allora grazie veramente Daniele spero di vederti presto per un'altra lezione della nostra scuola porto io sono qui con voi quando volete fate un metro fischio ti riporto i saluti ancora di Gennaro Curcio che è impegnato su un altro canale però mi ha detto di salutarvi ricambi 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 i nostri studenti il prossimo appuntamento è il 19 novembre col convegno su Ciac Maritain l'Uomo e lo Stato poi avrete tutti insomma tutte le indicazioni necessarie e quindi ci rivedremo in quella bene grazie a tutti e buona serata a tutti buona serata buona serata buona serata grazie 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 a tutti grazie a tutti